Non aprite le e-mail e soprattutto gli allegati inviati da mittenti il cui nick è Whatsapp, ma il cui indirizzo reale in realtà risale a soggetti tutt'altro che riconducibili alla nota applicazione. Si tratta di materiale contenente virus informatici, lo scrive la Polizia di Stato sul suo profilo Facebook Una Vita da Social. Da oltre un anno è consolidata la mania dei messaggi vocali che si sono aggiunti ai tradizionali messaggi di chat. Gli utenti, iscritti all'app di messaggistica più popolare del momento, possono inviare un file audio al destinatario in modo da evitare di digitare sulle tastiere degli smartphone lunghe conversazioni. Ma c'è un trucco e potenziale pericolo e consiste nel virus annidato nell'allegato che si è aperto e infetta il computer. Il più delle volte ciò consente al pirata informatico di controllare la device colpita dall'infezione, riuscendo a verificare anche a distanza le combinazioni di tasti digitati sulla tastiera. Con tutti i conseguenti illeciti vantaggi, si pensi alle credenziali di accesso del conto corrente online, alle non meno pericolose credenziali di accesso alle email, al profilo Facebook, ai dati personali dell'utente.